Facendo le verifiche della situazione attuale con le azioni in particolare del vento perché questa struttura l'azione dominante è il vento, è il vento quello che dà le maggiori sollecitazioni molto più che il sisma. Con queste sollecitazioni l'opera è al di fuori dei parametri di sicurezza. Sono queste le parole dell'ingegnere Giorgio Guiducci, consulente dell'ANAS, uno dei massimi esperti nazionali di viadotti e lui che ha decretato la pericolosità del viadotto Sente, una struttura che ha 50 anni, che quando fu realizzata era allineata agli standard dell'epoca, ma ora presenta due piloni, il 2 e il 7, in condizioni critiche a causa di frane e l'impalcato, ovvero la parte orizzontale del viadotto, che deve essere completamente ricostruito, magari in acciato. Perché il cemento è fortemente degradato a causa degli anni passati e a causa dei fenomeni atmosferici di una zona montuosa come l'Alto Molise. Poi c'è il vento che è il pericolo maggiore nella valle del Sente, un vento che potrebbe anche provocare il crollo della struttura se non venisse rafforzata e adeguata. Costo tra i 30 e i 50 milioni, soldi che la provincia di Senna non ha, per questo bisognerà assegnarsi. È pericoloso riaprire il viadotto che resterà chiuso, tagliando uno dei collegamenti più importanti tra la nostra regione e il vicino Abruzzo. Presidente Ricci, allora oggi finalmente l'ANAS ha dato la risposta. Che succede per il ponte Sente? Purtroppo dalle analisi che hanno effettuato i tecnici di ANAS, i progettisti incaricati nell'ambito della convenzione, il viadotto non può riaprire senza l'effettuazione di lavori importanti sull'intera struttura. perché c'è un settore in particolare che non è possibile riaprirlo neanche con un monitoraggio in continuo, che era quello su cui eravamo anche disponibili a farci carico dei relativi costi. Il giudizio finale dei tecnici è che per quel settore, che poi è il settore più alto, parliamo di circa 180 metri di altezza, per quel settore chiaramente si va a compromettere l'intero viadotto. Comunque un'alternativa ci sarebbe quella di una legge o un decreto legge che faccia passare nelle competenze ANAS la provinciale Istonia, con il viadotto Sente. A quel punto sarebbe l'ente statale a doversi preoccupare di aggiustare il ponte. Ricci lo ha già chiesto. Tocca ora ai parlamentari del Molise dare una risposta alla provincia di Serbia e all'Alto Molise.